una bella partita abbiamo vinto che è più importante per noi era anche divertente di fare gol abbiamo fatto una partita bella come squadra abbiamo fatto la fase difensiva insieme tutta la partita e anche la fase offensiva e poi abbiamo fatto due due gol non abbiamo preso il gol sì dobbiamo giocare così ultime quattro partite cosa non ha funzionato in questa stagione del palermo non lo so forse forse un po di sfortuna forse un po secondo me manca mancava un po di concentrazione tante partite che abbiamo preso gol ultime minuti non lo so forse mancava un po di esperienza però è difficile di dire che cosa che vuoi una squadra forte abbiamo visto quando abbiamo giocato qui in casa fanno bene come squadra poi noi dobbiamo fare la stessa cosa sì fare una partita come abbiamo fatto contro fiorentina e dobbiamo onorare la maia del palermo quest'ultima gare che che mancano qual è il tuo feeling col presidente baccaghini no ha avuto impatto positivo viene qui sempre con positiva energia bravo persona sì simpatico anche mister bortoluzzi ti ha dato molta fiducia due gare da titolare con lui con la lazio non c'è riperchieri squalificato sì mi aiuta tanto sempre chiaro su quello che vuole mi da fiducia che è importante per me per tutti i giocatori questo anno secondo me era un po strano ho giocato tanto anche come squadra abbiamo fatto tante partite positive però abbiamo anche perso tante partite che 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 era un po negativo però ho imparato la lingua un po c'è anche cose che è positivo però mi dispiace però per i partiti che abbiamo perso